ciao a tutti ragazzi e ragazzi 799 è tornato e c'è un piccolissimo problema il video di prima vi spiego si è interrotto perché la telecamera mi si è scaricata cioè e la carica a un certo punto ha fatto boom un botto si è scaricata e quindi diciamo che c'è così io ho spento la play sperando di ritornare al pezzo di prima e rifare anche questo per fare meglio il video il problema è che questo era già stato fatto cioè ha fatto il salvataggio automatico non come sulla play 2 che dovevo salvare io proprio facciamo così l'ho scritto anche nella descrizione del video che dura poco facciamo che questo lo faccio in due parti piccolo contrattempo e vabbè ora di nuovo in fretta ci riproviamo ovviamente sempre saltando stegas di frog qua ciccio sono qua muori ciccio anche te vedete quando la gente è stupida ok dovremmo esserci più o meno ragazzi allora lì sono già entrato quindi box non ce ne sono più eravamo qua ok niente panico ragazzi uscirà al massimo un video in più meglio no siccome non so come unire i video ok ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua swing shot vero ok perfetto non sapevo questo non viene provocato come mai ops perfetto non so neanche io cosa è successo ah sì 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 me lo ricordo ecco ora c'è un piccolo problema ok problema risolto credevo fosse più difficile molto bene le salto ragazzi perché sono veramente fastidiose ste rune ogni volta che devo devo proseguire quindi facciamo un po' in fretta anche se ragazzi effettivamente un'arma la dovrei comprare perché io so cosa c'è qua in questa arena però vabbè ci proveremo anche così cazzo quanta gente tutti qua non me l'aspettavo questo lo ammetto di solito i mostri non arrivano fino a qua ma ok va benissimo allora direi munizioni munizioni su munizioni ok ce l'abbiamo già al massimo devo rompere la prima di rompere guardate ecco sì sì bravo tu sì che mi piaci ok ok allora perché sto girando qua mi ricordo qualcosa forse infatti era da un'altra parte incredibile raccetti vai qua cioè io ho perso due vite per fare sta roba anche se potevo usare il guanto bomba ragazzi vabbè almeno là c'è sono anche un po' di bolz il secondo il secondo bolz non lo so dov'è il problema è che dovremo tornarci quando ratchet potrà respirare nello spazio se non ricordo male oh dice una vita perfetto vita tu sei mia ok problemi tecnici che capitano non ce ne frega noi ma a dirlo che ce n'era un altro magari sai ok in sostanza dobbiamo colpire quelli e ci stiamo riuscendo anche bene bravo e ma vedete ragazzi quando la gente è sportiva quando fa quello che vuoi mamma mia ok qua sono già molti tutti come è possibile ah sì deve essere stato il colpo di prima ok bene dobbiamo impostare questo ragazzi perché so cosa accadrà ora infatti ok meno male che siamo riusciti con le bombe merda non mi ricordo mai qua oh streghetta mamma mia questo non me lo ricordavo ma mi attacca anche lui vai 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 tempesta lo di bombe sì no questo non è difficile questo mostro è che quando hai poche vite ti prende una fissa strana comunque dovremmo aver finito in teoria o manca qualcosa di qua esatto di qua ok sì merda rane no poverino lascelo stare bene pensavo di non farcela stavolta qualche intelligentone deve aver di nuovo lasciato aperte le gabbie puoi anche scendere di lì ehi ragazzo un progettista di gadgets come me meriterebbe un po' più di rispetto quando gli si parla ah allora tu sei un inventore progettista di gadgets prego io creo congegneri evoluzionari per il presidente esecutivo Drek per esempio e voilà ecco ciò che sto per brevettare i green scarponi se lo dite devo riuscire ad andare da qui per trovare un nuovo lavoro ve li posso vendere a prezzo di costo vendere? dopo che abbiamo salvato il tuo assediero e tu tassa va bene d'accordo vi farò lo sconto per i dipendenti e che sconto grazie ora è meglio che me ne vada mentre posso ancora farlo hai recuperato i green scarponi e gris scarponi si sappiamo tutti cosa fanno gli scarponi possiamo fare così wuhuuu mi diverto sempre un sacco possiamo anche spostarci di qua di là fare della colmazia incredibile menare ma non con le armi solo con questa tuttavia va bene perché comunque non è che ci sia sta gran roba quando usate i green scarponi ah ecco cosa mancava e dovremmo farcela ok 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 ragazzi mi scuso ancora se questo video lo dovrò fare in due parti ma veramente la telecamera mi ha fatto boom e si è scaricata cioè io davvero non so come ok questo così e no manca qualcosa ok oh ce l'ho fatta davvero e ora mandiamo crank e qua ragazzi prenderemo l'idro sostitutore che ci permette di sostituire l'idro devo farlo assolutamente perché ci servirà assolutamente nel prossimo pianeta e il prossimo pianeta dovrebbe essere un po' un po' più facile comunque vi faccio anche vedere ecco il volt d'oro è proprio davanti a noi ci arriveremo quando il nostro ratchet potrà avere la maschera per respirare nello spazio rana ok allora so già cosa devo fare X e di nuovo X premuto per planare visto che alla fine lui è l'elizzaino rana ma fa pure sono più bravo con lui che con Ratchet di qua me ne sbatto un po' dei Bolz perché comunque ne abbiamo abbastanza ok 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 magari adesso con un po' di calma perché mi va in confusione la vista e se caldo dovrei iniziare da capo eccolo lì il Bolz tutto il suo splendore e magnificenza splendida ok 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 dai su un po' di brio che dobbiamo fare in fretta ho paura che la telecamera mi faccia un altro scherzo come quello di prima dunque vi starete chiedendo come lo affronto questo molto semplice ragazzi non ricordo se abbiamo già avuto modo di utilizzare il gadget bot in questo gioco non credo si con triangolo premuto possiamo dargli vari comandi del tipo entra attendi attacca o segui col comando attendi li possiamo far stare fermi mentre noi facciamo tutta la minchia che vogliamo col comando attacca beh attaccano però dobbiamo essere di fronte al nemico oh mamma perché non lo attaccano ah ok forse sbagliamo aprire no venite qua ok bravi ogni tanto capita che i gadget bot facciano un po' la minchia che vogliono ma ora li facciamo entrare così almeno i rospi non li ammazzo ma no ma brutti i rospi di me ma no no dove sono ah no è vero è vero senza paura è vero è vero se muoiono possono ritornare non c'è nessunissimo problema verranno sempre rigenerati qua eccoli qua tutti e tre uno è riuscito a entrare perché gli ho parato il tuo forza ragazzi venite con me è il momento di entrare ci salutiamo ragazzi ciao e noi abbiamo ottenuto l'idro sostitutore perfetto anche questo pezzo l'abbiamo finito sì l'idro sostitutore ve lo spiegherò anch'io più avanti ma ci permetterà praticamente di vicino ad appositi chiamiamoli rubinetti di svuotare o anche riempire delle piscine apposite collegate appunto ai rubinetti ci sarà tutto un gioco di 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 riempire e svuotare in un pianeta veramente meraviglioso sta diventando non sembra ma diventa sempre più complicato non non riuscirò poi dicevo che più avanti non so neanche se riuscirò a fare effettivamente come vi ho già detto un intero pianeta in un episodio vabbè questo perché la telecamera è scrausa e mi si è sputtanata comunque come al solito ragazzi anche per oggi è finito e l'ultimo video che metterò sarà su showdown per oggi a sto punto ne avrete 4 vi metto nella descrizione di questo il video del primo pezzo a sto punto comunque si caricheranno più o meno assieme e come al solito se vi è piaciuto questo video ditelo con un mi piace un commento positivo condividendolo dove volete mettete mi piace se volete anche la pagina di facebook che vi metto come in ogni video in descrizione e ragazzi se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi da 7 9000 è tutto ciao ragazzi per ora grazie a tutti